Un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale per la cura dei tumori testa-collo. La squadra multidisciplinare dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, coordinata dal professor Francesco Busso, direttore dell'ottorino-laringoiatria e composta da esperti di varie specialistiche, si riunisce da circa sei anni una volta a settimana per discutere i casi relativi a pazienti con neoplasie nell'area della testa e del collo. Una patologia quest'ultima che, secondo gli esiti a disposizione della struttura sasserese, in Sardegna ha fatto registrare un dato preoccupante. Se i dati statistici sui tumori cervicali nell'isola sono in linea con quelli nazionali, nella nostra regione emerge che queste malattie vengono trattate dalle strutture ospedaliere quando spesso sono in fase avanzata. L'instaurazione di piani multidisciplinari permette di indirizzare più facilmente i pazienti con un sospetto di tumore della testa e del collo alla struttura di riferimento. Questo consente di inquadrare i tumori del collo in modo affidabile, prima di qualsiasi procedura chirurgica, con un prelievo fatto con un ago sottile in maniera mirata sotto la guida dell'ecografo. Fondamentale ruolo del medico di famiglia che deve saper indirizzare i propri utenti, quando è necessario, verso lo specialista medico più adatto. Il professionista, dopo una prima valutazione, lo introduce verso un percorso terapeutico di assistenza corale che nella struttura di Viale San Pietro ha raggiunto livelli di eccellenza in campo nazionale per le masse neoplastiche cervicali.